Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona, confine di Stato. Direzione Italia, careggiata sud, tra Ventimiglia e Bordighera, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento Galleria Siestro dal 17 dicembre al 21 dicembre. Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento Gallerie Poggi e Barbarossa e Rifacimento Giunto Viadotto Poitexelli dal 17 dicembre al 21 dicembre. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di marcia per installazione attenuatori d'urto dal 17 dicembre al 21 dicembre. Direzione Francia, careggiata nord, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento Gallerie Bracciale e Montegrosso dal 17 dicembre al 21 dicembre. Grazie a tutti.